Nuovo abbonamento per Dasonda ieri, 1 luglio. Pensato sì per chi ama il calcio, ma che non vuole spendere troppo. Ed è per chi non apprezza solo il campionato italiano, ma anche le leghe estere. Di cosa si sta parlando? Si chiama gol passe per 13,99 euro al mese, o 129 euro l'anno con pagamento anticipato, che sono poi 10,75 al mese, include tre partite di serie A per ogni giornata, quelle in coesclusiva con Sky, i match della Liga Spagnola, il meglio del campionato portoghese e il calcio femminile della UEFA Women's Champions League. E non è finita qui. Comprende anche gli highlights di serie A. Insomma, un pacchetto per il calcio low cost, l'offerta più bassa sul mercato. Almeno al momento. Avviso agli utenti. L'abbonamento Golpass permette di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet. Da ricordare che Dazon ha acquistato i diritti per tutte le partite del nostro campionato nel quinquennio 2024-2029. Dieci partite aggiornata, sette in esclusiva e tre in coesclusiva con Sky. Saranno queste ultime tre a essere incluse nel nuovo abbonamento Golpass. Che si aggiunge, quindi, agli altri abbonamenti di Dazon. Le novità non sono finite qui. Nella sezione Help del sito, Dazon ha anche informato gli utenti, via mail, che dal 1 agosto il canale del digitale terrestre Zona Dazon non sarà più disponibile al canale 214 del decoder Sky via internet e senza parabola. Il canale rimane, però, attivo per chi lo utilizza con decoder via satellite e ha un abbonamento TV attivo. Ai clienti che fruiscono del canale Zona Dazon tramite digitale terrestre, si legge, non saranno più addebitati, a partire dal mese di giugno 2024, gli importi relativi all'opzione Zona Dazon su Sky, pari a 5 euro al mese in casi di sottoscrizione avvenuta prima del 7 agosto 2023, oppure pari a 7 euro e 50 centesimi al mese in caso di sottoscrizione avvenuta dopo tale data. Il servizio in digitale terrestre Zona Dazon su Sky rimarrà attivo fino al 31 luglio 2024 e gli utenti con opzione attiva e decoder SkyQ via internet e SkyQ senza parabola potranno continuare a guardare il canale fino a tale data.